Buongiorno amici di WeTrading, oggi parliamo di un nuovo broker che si affaccia al mercato italiano, quindi andremo a vedere la sua offerta. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordiamo che qualsiasi esempio di valutazione o appunto presentazione e review non deve essere intesa come consulenza, come invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Andando sul sito del broker, che si chiama NS Broker, powered by NSFX, troviamo una realtà ben consolidata che si affaccia al mercato italiano con una piattaforma e un servizio di eccellenza. Innanzitutto, la regolamentazione non è SISEC ma SMFSA, cioè di Malta, quindi una regolamentazione molto stringente che si avvicina molto più all'Italia rispetto a Cipro e che è spesso apprezzata dal QDTrader. Abbiamo un broker che vi offre il trading sul Forex, sui metalli preziosi, sugli indici, anche sulle criptovalute, sulle azioni, anche sul petrolio e natural gas. Poi, per quanto riguarda i tipi di conti, anche qui potete allenarvi con il conto demo o eventualmente passare a un conto real. I metodi per aprire il conto sono molto semplici, quindi basta cliccare sul conto reale, inserire i vostri dati e proseguire con la registrazione. Se avete bisogno di supporto, vedete, c'è la live chat, il numero di telefono o l'ELPdesk via email o, appunto, se siete a Malta, potete anche andare a trovarli nell'ufficio di Valletta. Per quanto riguarda, poi, una sezione che mi ha incuriosito è sicuramente la parte educational, dove trovate degli articoli, dei webinar informazione, dei manuali, ma anche delle video lezioni molto brevi, molto veloci, che vi aiutano, quindi, vedete, a capire un po' di aspetti del mercato. Per quanto riguarda i webinar, vi invitano ad andare a vedere i vari webinar, in questo momento ci sono quelli del passato, fino ad aprile, a quanto pare a maggio non ce ne sono stati, però, hanno lanciato anche un canale di YouTube, a cui, ecco, vedete, potete fare riferimento ad altri video che trovate pubblicati sulle analisi del momento, eccetera. Per quanto riguarda, ancora, un ultimo elemento, potete tradare con l'MT5, sia desktop che, naturalmente, mobile, sia web trader, quindi, una piattaforma, come sappiamo, tra le più evolute rispetto all'MT4, che, quindi, vi dà l'accesso a tutti i movimenti. Un particolare, sicuramente, oggettivo controllo, vi consiglio di farlo nella parte delle regolamentazioni, dove trovate anche i passaporti, come ad esempio anche per la Consob, la regolamentazione MIFI, del Bafin, della tedesca, trovate anche la possibilità con cui depositare o prelevare con le carte tradizionali o l'utilizzo di bonifici o altri portafogli elettronici. E, tra i liquidi provider, vedete, ecco, ci sono nomi di prima, di primo ordine, come LMAX per il Forex, Ducas, Copi, Curanex, ancora per il Forex, per l'azionario sicuramente si basano molto su Berkley's Credit Suisse e CITIS. Quindi, stiamo parlando, quindi, appunto, di situazioni di regolamentazione e di capacità di questo broker di avere dei contatti molto, molto, molto importanti. Quindi, vi invitiamo a visitare www.nsbroker.com, con, naturalmente, la sezione italiana, per decidere, appunto, l'analisi dell'offerta ed, eventualmente, quindi, aprire anche un conto demo o reale.